Una serata all'insegna del divertimento, quella organizzata al Cineteatro Marconi di San Cataldo dalla locale associazione Anfas, a cui hanno preso parte tanti artisti che hanno intrattenuto il pubblico presente con spettacoli musicali e di danza. Presentate inoltre nel corso della serata il calendario dell'associazione per l'anno 2015. È una serata di presentazione dell'associazione, delle attività che ha svolto e che svolge e vedremo anche delle cose che svolgerà nel futuro. Anfas è presente nel territorio nisseno, ma qui a San Cataldo da oltre 15 anni. Abbiamo fatto tantissime cose, soprattutto abbiamo creato una rete solidale che si chiama per l'appunto Sire, Solidarietà in Rete, assieme a quattro cooperative sociali. Abbiamo realizzato tantissime cose nel corso di questi 15 anni, dall'ipoterapia all'autonomia all'inserimento lavorativo e questa sera i protagonisti saranno i nostri ragazzi ovviamente e le associazioni e le cooperative che si sono prese cura di tutti loro. Quindi presenteremo le cooperative, ognuna con la sua specialità, chi si occupa di inserimento, chi si occupa di servizi anche domiciliari. Insomma è un bel insieme di strutture che hanno lavorato veramente molto, per dare anche alle famiglie, soprattutto alle famiglie, quei servizi che purtroppo le istituzioni, un po' perché sono impreparate, un po' perché non è compito loro, che le istituzioni dovrebbero garantire. Lo abbiamo fatto e Anfas lo fa con fondi propri, non usufruisce di nulla e la rete serve per l'appunto a sostenere tutte le attività che ha avviato da tanti anni a questa parte. Questa sera noi manderemo in onda tre filmati che spiegano i tre filoni portanti della nostra attività. Quindi sono filmati che riguardano le attività di riabilitazione, l'attività di inserimento, dell'attività sportiva. Poi tra un filmato e l'altro ci saranno artisti locali, abbastanza noti a livello locale, che chi canterà, chi danzerà, tutto sarà collegato da un filo conduttore. Perché anche le persone che abbiamo coinvolto nello spettacolo, perché sarà un vero spettacolo, sono tutte collegate in qualche modo con la disabilità, se non strettamente con le persone con disabilità, con noi, con le associazioni, perché capiremo e capirete che loro ci spiegheranno il motivo per cui sono qui e si trovano anche loro a loro agio.